Giovanni e Giacomo Mazzariol sono due fratelli di Castelfranco Veneto che si sono presentati sul palco di Tussique e Valles facendo commuovere nel giro di qualche minuto i tre giudici e tutto il pubblico. Qualche tempo fa Giacomo ha messo su Youtube il video del Simple Interview in cui intervistava il suo fratellino 12enne affetto da sindrome di Down. L'intento era quello di dimostrare agli altri la quotidianità del ragazzino e di tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione. Quel video è il quotidiano, spiega, ho visto che la gente non riusciva a vedere Giovanni come veramente così ho donato il mio sguardo da fratello su queste persone. Il nostro talento, ha continuato Giacomo di fronte ad una Maria De Filippi in lacrime, è essere noi stessi, farci vedere per quello che siamo, due fratelli. Mentre il più grande parlava Giovanni gli ha fatto qualche dispetto come succede solitamente tra fratelli e poi ha detto, io sono forte, quando faccio la lotta vinco, con lui vinco io. Gerry Scotti ha speso parole molto dolci nei confronti dei due fratelli e si è detto certo che il messaggio lanciato da Giovanni e Giacomo arriverà forte e chiaro alle coscienze di tutti noi.